Però, permettetemi prima di incontrare queste due ragazze di dire una cosa che veramente vi era molto fastidio. Io pensavo che l'Italia fosse uscita dal Medioevo, invece purtroppo prendo atto che non è così. Domani esce un film, Scuola Cattolica, che racconta il massacro del Circeo, quando nel 1975 vennero uccise due giovani donne, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez. Vennero massacrate. Una non solo venne violentata, ma venne anche ammazzata. L'altra si salvò per puro caso. Bene, questo film che racconta questa tragedia è stato censurato. Censurato. Abbiamo chiesto il regista Stefano Mordini di dirci le sue emozioni, quando ha saputo, di questa censura. Ricevere oggi un atto censorio, una censura, una revisione, o comunque se voglia chiamare per un film come questo, la Scuola Cattolica, mi lascia perplesso, mi inquieta, perché è un film che è stato costruito per i ragazzi, tra l'altro i protagonisti sono dei ragazzi. Sin dall'inizio ho pensato che fosse importante proporlo a loro, proprio per dargli lo strumento per poter leggere un domani, magari la realtà, oppure di farsi una coscienza critica, su un fatto successo nel 1975 in cui perde la vita una minorenne. Serve a questo, questo film, per creare un'allerta, per fare una riflessione e quindi credo che non vada censurato, non mandava censurato, ma se l'ho visto. Io penso che questo film, anziché andare censurato, dovrebbe essere mandato nelle scuole. Viene vietato ai minori di 18 anni, come se chi prende questa decisione non sappia in che mondo vivono i giovani di oggi, cosa fanno con i loro telefonini, che cosa trovano sui loro telefonini. Si censura un film che dovrebbe, ripeto, essere proiettato nelle scuole per mettere sul chi va là tanti giovani.